A casa nostra si viveva sempre come si fosse alle prove generali di una vita a corte. E la tavola era il luogo dove venivano alla luce tutti i nostri antagonismi e ipocrisia. E' la propria tavola che scoppia la ribellione di Cosimo. E tu Cosimo? Avanti! Mastica! Mangia! Mangia di tu da te una settimana a pane e acqua! Su! No! Ho detto di no! Non lo voglio! Cosimo dove sei? Cosimo! Cosimo! Eccomi! Ma che fai lassù? Scendi! 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 Scendi immediatamente! Scendi! Lascio il labbro! Scendi! Te la farò vedere io! Scendi subito! Cosimo! Non vuoi fare male Cosimo! Tu ho detto di scendere! Scendi! No! Io non scenderò mai più! Cosimo! Non vuoi fare male Cosimo! Cosimo! Scendi! Cosimo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.